L'ufficio tecnico del comune di Ponte Nossa rammenta alla popolazione che a tutt'oggi risulta ancora in vigore l'ordinanza del sindaco del 26 marzo scorso, con la quale si dispone all'intera popolazione di provvedere al mantenimento delle aree e di proprietà a sgombre da materiale organico in decomposizione, e qualora questo fosse presente all'immediata sua rimozione. Questo per non favorire la diffusione dei millepiedi, un problema particolarmente sentito nei mesi scorsi a Ponte Nossa. Le operazioni di rimozione e l'obbligo di mantenere le aree pulite e libere da ogni tipo di materiale organico, quale ad esempio erba e sfalcia verde, scarti di fogliame di vario genere proveniente da ortaggi, dovranno sempre essere eseguite. L'ufficio tecnico ricorda che in caso di inerzia da parte dei proprietari dell'area verrà combinata una sanzione pecuniaria di 1000 euro e le opere di pulizia verranno eseguite direttamente d'ufficio tramite dite specializzate incaricate dal comune, con addebito delle spese a totale carico del privato proprietario.